Nello splendido scenario del lungomare di Villammare di Vibonati si è svolta nell'ambito della ventitreesima edizione del Villammare Festival Film & Friends la cerimonia di premiazione del prestigioso premio speciale Banca Montepruno, assegnato ex equo all'associazione i ragazzi del ponte di Polla e da Rachele e Furiati per i loro rispettivi lavori intitolati Sentire la Mancanza ed il Custode. La manifestazione ha visto la partecipazione di un numeroso e qualificato pubblico che ha contribuito a creare un'atmosfera di grande entusiasmo e partecipazione. A premiare i vincitori è stato Michele Albanese, direttore generale della BCC Montepruno, il quale si è dichiarato soddisfatto ed orgoglioso di essere parte di un evento di così alto valore culturale, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa voluta dal patron del Villammare Festival Alessandro Cocorullo. L'associazione i ragazzi del ponte, attiva Polla con un forte impegno sociale e culturale, è stata premiata per il lavoro Sentire la Mancanza, un'opera che ha saputo toccare le corde emotive del pubblico con la sua sensibilità e profondità. Dall'altro lato Rachele Furiati ha ricevuto il riconoscimento per Il Custode, un'opera che ha dimostrato una grande capacità narrativa ed un'elevata qualità artistica. Il premio speciale Banca Montepruno, assegnato nell'ambito del Villammare Festival, rappresenta un importante riconoscimento per chi, attraverso il proprio talento e la propria dedizione, contribuisce a valorizzare e promuovere la cultura nel territorio. La Banca Montepruno, da sempre vicina alle realtà locali, conferma il suo impegno nel sostenere progetti che promuovono l'arte e la cultura, elementi fondamentali per la crescita della comunità. A fine serata il direttore generale della Banca Montepruno ha dichiarato Stiamo estremamente soddisfatti ed orgogliosi di aver assegnato il premio speciale Banca Montepruno a due realtà che rappresentano al meglio il talento e l'impegno culturale del nostro territorio. L'associazione I ragazzi del ponte e Rachele Furiati, prosegue Michele Albanese, hanno dimostrato con le loro opere una sensibilità ed una qualità artistica straordinarie. Questo premio, fortemente voluto dal patron del Villammare Festival Alessandro Cocorullo, conferma il nostro impegno nel sostenere la cultura locale e nel valorizzare chi con passione contribuisce alla crescita della nostra comunità. La serata si è conclusa con un sentito applauso da parte del pubblico e con la promessa di un rinomato impegno da parte della BCC Montepruno per le prossime edizioni del festival che continueranno a celebrare e valorizzare il talento e la creatività del territorio.